Love is God, live in love, live in love, live in love. Sairam a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Omi Osai. Oggi abbiamo appena terminato un altro meraviglioso incontro di Premabandam che noi alunni abbiamo presentato alla nostra Madre Divina. Rappresentazioni teatrali, programmi musicali e la meravigliosa esibizione della banda. Venire qui a questo incontro del Premabandam è un qualcosa che attendiamo intensamente e guardare tutti i programmi e tutto l'amore dei nostri fratelli e sorelle qui a Puttaparty mi ricorda la prima volta che venne qui. A quel tempo non ero studente ma cercavo di ottenere la missione all'undicesima classe. Quando venne a Puttaparty seppi che la mia domanda di iscrizione non era ancora giunta quindi non ero nell'elenco degli studenti che avrebbero dato l'esame. Pertanto mi recai dietro a Suami e gli chiedevo di ammettermi all'undicesima classe. Ma ogni momento, ogni minuto, ogni volta che mi avvicinavo a Suami egli veniva da me, prendeva la lettera e quando gli domandavo per la missione lui mi rispondeva, aspetta, aspetta. E questo continuò per un mese e mezzo. E le interazioni che ebbi con Suami in quel mese e mezzo furono davvero memorabili. È un qualcosa che non andrà mai via dalla mia testa. Infatti, Suami era solito giocare moltissimo con me. Quando ero a Brindavan mi spediva a Puttaparty. Infatti, un avvenimento che ricordo dell'onnipresenza di Suami fu quando eravamo a Prashantinila e Yam durante il periodo in cui cercavo di iscrivermi all'undicesima classe. Stavo parlando con alcune persone qui e loro mi dissero perché non provi ad andare a parlare con l'amministratore? Magari può fare qualcosa per te. E io risposi, ok, è una buona idea. Quindi, siamo andati al Darshan, andai a prendere un divino Darshan, mi avvicinai a Bhagavanna e gli chiesi di nuovo la missione. Suami, per favore, dammi la missione. Ma l'onnipresente signore sapeva che cosa stavamo pianificando e rispose, andrei a parlare con l'amministratore. E si voltò e se ne andò. Questi sono tutti eventi, scene, situazioni, in cui realizziamo che Bhagavan conosce ogni passo, ogni azione che facciamo e le benedizioni che ci dona sono incalcolabili. Ma l'attesa di Swami e il suo rifiutarsi verso di noi non è un deniego per sempre. È solo che in quel particolare periodo di tempo io non ero destinato a quel posto. E Swami mi diede la missione, infatti, nel 1993, nel campus di Brindavan. Però, durante l'attesa per la missione, persi un anno a causa dell'inizio della Guerra del Golfo. Ma quell'anno perduto fu per me una grande benedizione. Perché durante quel periodo, dal 1993 al 1996, fu la prima volta che Bhagavan soggiornava il campus di Brindavan circa 8-10 mesi all'anno. Generalmente Bhagavan veniva a Brindavan solo durante certe occasioni e stava un mese o al massimo due mesi all'anno. Ma questi tre anni della mia vita furono l'unico periodo in cui Bhagavan si fermava sempre al campus di Brindavan. Quindi i denieghi di Bhagavan non sono negazioni, ma egli è colui che sa quando è il tempo migliore per te. Lui è l'unico a sapere quando devi essere lì ed è l'orchestratore di tutto il tuo programma di vita. Ma le cose non finirono lì. Dopo essere venuto al campus di Brindavan dal 1993 al 1996, in quel periodo meraviglioso che avevo avuto con Bhagavan, ci furono molti eventi in cui Bhagavan mi prendeva in giro, ma contemporaneamente mi insegnava moltissime lezioni. Per esempio, ogni volta che ci siedevamo al Darshan, Bhagavan proveniva dalla parte delle donne e noi portavamo le nostre mani in posizione di preghiera aspettandolo. C'erano le signore che gridavano Swami, 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 e io pensavo beh, Swami passerà di qua e mi guarderà. Ed egli diceva guarda quelle donne stanno gridando pakora, pakora, pakorora, ti stanno chiamando. Quindi Swami si divertiva e ci prendeva in giro moltissimo. Che a volte, anche se il nostro cuore sapeva che Swami è Dio, la nostra mente lo considerava sempre come un amico. Infatti, una volta, mentre ero seduto in fronte a Swami, Swami passò dicendo Io non sono in grado di reggere il mio stesso peso, ma come fai tu a reggere il tuo? Swami, gli dicevo, Swami, è grazie alle tue benedizioni. Quindi, è la mente che pensa sempre a Swami come ad un amico. Ed eravamo abituati a relazionarci con Lui in una tale maniera che anche se eravamo consapevoli che Lui è Dio, ma non ci comportavamo mai come quel devoto che corre dietro a Dio, bensì come un figlio si comporta con la propria madre, come un amico che va in giro con un altro amico. Ma anche riguardo a questo ci sono delle questioni. Quando questo ti entra nella testa, a volte si danno le cose per scontate. Ci fu un periodo nel novembre 94-95, se non erro, eravamo venuti dal campus di Brindavan e stavamo eseguendo una piantumazione di alberi. Quella volta mi avevo svolgato una mano e l'avevo bendata tutta, la mano destra. E in quel momento stavo pensando, beh, arriverà Swami da me, verrà, vedrà la mia mano e mi chiederà che cosa hai fatto alla mano. E mi stavo facendo tutte queste storie nella mia testa su ciò che dovevo raccontare a Swami. Quindi, stavo aspettando il Darshan, ma Swami mi ignorò. Aspettai il secondo Darshan e Swami mi ignorò. Poi, il pensiero di raccontare a Swami l'intera storia se ne andò via. Ero seduto nella fila del Darshan e il giorno seguente, mentre non stavo pensando a nulla di tutto questo, ma stavo solamente pregando Swami, dicendo, Swami, benedicimi, egli si avvicinò a me e mi chiese, ehi, cosa ti è successo alla mano? E in quel momento, tutte le preghiere che avevo formulato per avere risposta, beh, non ricordavo nulla, e dissi solo, Swami, ho slogato la mano. E Swami mi benedì e andò via. Ecco, queste sono le lezioni che ci dà Swami. A quel tempo, quando eravamo con Swami, non erano solo mere benedizioni, bensì le sue benedizioni erano lezioni da imparare. e queste non sono cose che servono per quel momento, ma sono lezioni che valgono per una vita, che ti accompagnano per tutto il tuo viaggio, sia che siamo apprascianti, sia che siamo fuori. Infatti, ciò che abbiamo visto in questo spettacolo mi ricorda anche di quello che accadde quando siamo fuori. Per esempio, quando ci sono queste presentazioni celebrative qui a Puttaparti, durante il periodo in cui c'era Bhagavan, nonostante non avesse avuto il privilegio di essere uno dei membri della presentazione teatrale, ricevevo gli aggiornamenti dei miei fratelli e amici che erano parte del team e dicevano che Bhagavan era solito venire a vedere l'esibizione che i devoti eseguivano con totale amore e dedizione a lui. Allora Bhagavan li informava o li correggeva guidandoli su come doveva essere svolto il dramma, il teatrale, affinché i devoti fossero felici e questo non finiva qui. Perché quando andavamo all'estero per svolgere delle cose con dedizione ed organizzare un programma per Baba, Swami era sempre lì a guidarci. Infatti, persino recentemente che ci sono state le celebrazioni del suo compleanno, due anni fa nel regno del Bahrein, stavamo preparando tutte le canzoni per il programma e Bhagavan mi è venuto in sogno per darmi la sua guida. Dicendo, perché non canti questo tipo di canzoni? Effettivamente Bhagavan ci ha condotti a cantare tutte le vecchie canzoni che i ragazzi avevano cantato di fronte a lui, il nostro carissimo Bhagavan. Quindi venire a Puttaparti non significa solo venire qui per organizzare un programma, ma è come rivivere la nostra vita con Bhagavan, rivivere tutti i bellissimi ricordi. Anche se Bhagavan è là con noi, nel Medio Oriente, o in qualsiasi altro luogo nel mondo, egli è con noi. Noi veniamo qui per ricaricarci, prendere l'energia della nostra Madre Divina. non c'è niente di più valevole e questa è una delle benedizioni più grandi che tutti noi studenti desideriamo. Ed è per questo che veniamo ogni anno a gennaio per partecipare al Prima Damban, per dare inizio alla nostra nuova vita davanti alla Madre Divina. Quindi, grazie a tutti. Jay Sairam Grazie a tutti.